Lavori sospetti di fronte alla discoteca Il Ruscello. Da alcuni giorni sono in corso poderose opere di sbancamento della fascia verde che costeggia la strada. Quella che era una naturale barriera vegetale fatta di eucalipti, cipressi e arbusti è stata completamente sradicata. Nessun cartello che indichi la natura dei lavori, nessuna spiegazione, ma la sensazione è che debba nascere qualcosa nonostante la già risicata fascia di rispetto svolga un ruolo determinante dell'impatto ambientale della zona. Alcuni cittadini si dicono pronti ad andare fino in fondo alla questione e minacciano il ricorso alle carte bollate pur di vederci chiaro.